Ben ritrovati a Robia Extra, parliamo oggi di Crocevia, la nostra rassegna che ha preso il via quest'estate e siamo già agli appuntamenti autunnali. Con noi oggi il nostro direttore Paolo Confalonieri e Marco Zanchi, ultrarunner, così svegliamo già qualcosa delle novità dei prossimi appuntamenti di Crocevia. Paolo dunque, questa rassegna, raccontacela un po'. Sì, siamo partiti appunto a giugno con l'appuntamento con Enrico Camanni che è stato ospite a Dastino e quindi ha inaugurato la rassegna, poi abbiamo avuto gli altri incontri con Anivest Meroi e il marito Ormano Benet e poi ancora l'incontro con Irene Borgna e poi infine quello con Paolo Cognetti, incontri esineranti sul territorio della Lombardia, un'iniziativa per far incontrare gli scrittori, gli autori di montagna con i nostri lettori. Un'iniziativa che ha avuto successo grazie alla collaborazione di Talcementi che è il nostro sponsor di questa rassegna ma anche di Regione Lombardia e della struttura di In Lombardia che ci affiancano in questo nostro cammino. Dopo quello estivo abbiamo iniziato il programma autunnale e invernale e proprio a Civate a Lecco c'è stato il primo incontro con Francesca Gallo, fisarmonicista, una rivelazione perché è una donna che davvero unisce la passione per questo strumento musicale con il recupero delle storie, delle canzoni, dei racconti che appartengono al mondo non solo della montagna ma comunque della civiltà rurale, del mondo anche alpestre e quindi davvero una testimonianza molto intensa di quelli che sono i legami, gli incontri che si possono fare nell'andare alla scoperta del nostro territorio. Il prossimo incontro Marco sarà con te. Marco sarà con noi perché avremo l'incontro a Bergamo il 21 di novembre in una sede prestigiosa perché saremo nell'aula magna dell'Università degli Studi di Bergamo quindi saremo in Sant'Agostino e lì avremo la possibilità di sentire da Marco la sua impresa. L'impresa che hai compiuto l'estate scorsa, l'Europia è tutta ed un fiato. Esatto, quindi ringrazio sin da subito per l'ospitalità, per poter dare la prima visione a Bergamo del filmato che ho realizzato proprio in occasione del mio evento, chiamiamolo sportivo ma io lo chiamo più che altro, di valorizzazione proprio delle mie montagne, delle nostre montagne dell'Europia. Orobia è un fiato, finalmente il video è pronto e devo vi racconto un po' questo percorso che ho fatto proprio il 6-7 luglio che ho unito i due sentieri dell'Europia, l'orientale e l'occidentale. 150 chilometri. 138 chilometri precisamente. 138 chilometri, 9 rifugi toccati, ho fatto tutta la mappatura del sentiero, quindi tracce GPS, sto preparando anche un sito internet dove la gente che vuole incamminarsi per questo itinerario, potrà avere varie informazioni e proprio quel giorno, proprio per l'occasione abbiamo realizzato questo video che ricorda un po' il passato e il presente di questo sentiero. Lui lo definisce video, in realtà è proprio un docufilm, è molto bello, realizzato con la regia di Stefano Vedovati che ha utilizzato anche l'elicottero, i droni e poi avete mobilitato tanti amici che hanno documentato lungo il percorso questa impresa che non è solo sportiva ma anche ha un valore storico, ambientale perché Marco racconta la storia di questi itinerari, di questo sentiero che parte dalla Val Brembana, da Carona, da Cassiglio, scusate, dalla Val Brembana, attraverso le Orobi, raggiunge quindi poi il passo della Presolana, quindi a cavallo tra la Val Seriana e la Val di Scala. Sì, è stato, quel giorno è stato fantastico, ho tantissimi ricordi, soprattutto di tanti amici che mi hanno accompagnato durante questa impresa, Stefano Vedovati, un amico che ha la sua prima esperienza come videomaker, diciamo su lunghi, su cortometraggi, cioè diciamo su un filmato del genere, un filmato che definisco quasi chilometro zero perché tutti i protagonisti da chi ha dato la voce a chi ha aiutato quei droni così è tutto rimasto in provincia di Bergamo, quindi è venuto un bel prodotto e quindi non vedo l'ora di poterlo farlo vedere anche a Bergamo. Tra l'altro Cristina parteciperà anche ai vari film festival, ai concorsi cinematografici di settore, quindi noi abbiamo la possibilità di vederlo in anteprima a Bergamo appunto il 21 di novembre alla sera alle 20.45 all'auditorium, all'aula magna dell'Università degli Studi di Bergamo in Sant'Agostino, quindi una bella opportunità per chi ci segue. E Marco succederà in quella serata anche qualcosa di buono oltre che di emozionante perché parte un'asta del tuo zainetto. Sì, proprio per quell'occasione avevo realizzato questo zainetto, zainetti che noi utilizziamo solitamente nelle nostre gare, nelle nostre avventure. Per quell'occasione, visto che io produco, diciamo, una mia opera a produrre questi zainetti, ho ritratto proprio la prima cartina del Sentio della Robbie che ho trovato nei vari archivi del CAI. Sono riuscito a riprodurla su questo zainetto, quindi lo voglio mettere all'asta per, diciamo, inizierà l'asta quella sera e il ricavato verrà devoluto al... voglio regalare dei giocattoli all'ospedale Papa Giovanni per il reparto oncologico infantile. Ecco, mi piacerebbe fai un regalo di Natale a questi bambini poco fortunati. Una ragione in più per andarci. Eh sì, tra l'altro sottolineo la collaborazione che abbiamo in questa occasione con il CUS, con il Centro Universitario Sportivo, che quindi contiamo di poter puntare anche sulla presenza dei ragazzi, degli studenti, proprio per sentire direttamente dalla voce di Marco di questa sua impresa, che non è solo di carattere sportivo, ma proprio anche davvero un racconto del proprio territorio che è significativo. Sì, poi soprattutto mi piace che verranno coinvolti proprio i ragazzi, proprio anche per trasmettere cosa li circonda fuori dalla città, di queste montagne, ma alcuni di loro si vanno in montagna, però probabilmente altri non sanno di essere scondati da questi sentieri, soprattutto da questo fantastico sentiero, questa alta via che io, diciamo, ho battezzato a luglio, ecco. E tu che emozione racconterai di quei due giorni? Eh, racconterò, ma racconterò sia io, ma voglio far raccontare anche chi mi ha seguito quel giorno e quella notte, gli amici che mi hanno accompagnato, i rifugisti che mi hanno dato un'accoglienza a qualsiasi ora del giorno della notte, quindi vorrei che anche loro partecipassero, far raccontare anche le loro emozioni che hanno vissuto in quei momenti e poi ci sarà il video, il lancio del video, con una piccola sorpresa magari all'inizio, penso che può essere una bella serata di valorizzazione proprio delle nostre montagne. Quel giorno, in quei due giorni, c'era anche Orobi ad accogliere e ad applaudire Marco, eravamo in particolare nella zona del rifugio Curò perché si accavallavano le due iniziative con la mobilitazione di Salviamo le montagne promossa dal CAI di Bergamo e quindi avevamo avuto modo di sentire direttamente da Marco al Curò le impressioni durante questa fatica. Quindi prenotazioni da subito? Prenotazioni da subito è un evento gratuito, è necessaria solo la prenotazione per poter assegnare i posti a chi parteciperà. Grazie e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima appuntamento con Orobi Extra.